Nel 1969, nel licenziare alle stampe il testo di una conferenza dal titolo The Form of Movement in Water and Air tenuta all'Università di Los Angeles nell'ambito di un convegno dedicato all'eredità intellettuale di Leonardo, Gombrich si appellava nel suo incipit alla clemenza del lettore e ancora prima dell'ascoltatore. An apology may be needed from an artistorian proposing to approach a subject however tentatively that extends far into the history of science. Con l'arte retorica che gli era propria, Sir Ernst si affidava al topos dell'umiltà per poi fornire una delle analisi più lucide del metodo di lavoro di Leonardo fino ad allora proposte. Appropriandomi oggi di quell'incipit, di quelle parole, di quelle scuse, sono consapevole di tre importanti differenze. Uno studio del concetto di analogia, tanto caro alla mente di Leonardo e tema del mio intervento, non invade solo il campo della storia della scienza, bensì anche quello della filosofia. Inoltre oggi, grazie al grande lavoro dello stesso Gombrich e alle pubblicazioni fondamentali di Martin Kemp, che ha appena parlato, che abbiamo appena ascoltato, di tanti altri studiosi anche presenti in sala, siamo riluttanti a studiare l'opera di Leonardo in sfere di competenza separate tra loro. Infine, mentre Gombrich offrì un'interpretazione fortemente innovativa del pensiero di Leonardo, qui ci limiteremo a sondare qualche esempio del suo metodo di indagine del mondo naturale senza pretendere di esaurire un argomento così vasto. Per affrontare questo tema complesso si dovrebbero svolgere almeno tre compiti. In primo luogo, distinguere tipi, usi, funzioni e finalità dell'analogia nell'opera di Leonardo, rispettando per quanto possibile la dimensione cronologica. Poi, ripercorrere la storia del concetto di analogia nel contesto degli studi vinciani, e non solo, per comprenderne meglio utilità e debolezza, la dubbia fama e la sua riabilitazione. Infine, terzo punto, insistere sulla formazione e sulla lingua dell'artista, figlio delle botteghe fiorentine e non cresciuto nell'ambito degli studi umanistici. L'opera di Leonardo è attraversata da frequenti ricorsi all'analogia, sia in termini letterali o sostanziali, per esempio la similitudine tra macro e microcosmo con cui abbiamo accuso l'intervento di Martin, sia in senso euristico, per esempio la somiglianza formale tra il vortice di creati dall'acqua e i capelli mossi dal vento, oppure in chiave metaforica, l'architetto equiparato a un medico che deve intervenire su un corpo edilizio incompiuto o malato per risanarlo. Sono tre modelli o usi a volte intrecciati tra loro, poiché analogie dei primi due tipi potrebbero essere arricchite da una metafora. Vediamone allora qualche esempio. L'analogia tra macro e microcosmo ricorre spesso nelle pagine di Leonardo, in forma già compiuta a partire almeno dal manoscritto A, a cui faceva riferimento Martin poco fa, che risale al 1490-92 circa, dove alla carta 55 verso leggiamo in alto le seguenti parole celeberrime, mi riferisco ovviamente a questo rigo. Cominciamento del trattato dell'acqua, Cominciamento del trattato dell'acqua, tema che ossessionò Leonardo sino ai suoi ultimi anni. Si tratta di un brano molto noto, ma è utile citarlo quasi integralmente per cogliere il tono di quei passi che in seguito non verranno riportati nella loro completezza. L'uomo è detto dagli antichi mondo minore, e certo la dizione del suo nome è bene collocata. Impero che, siccome l'uomo è composto di terra, acqua, aria e fuoco, questo corpo della terra è il similiante. Se l'uomo ha in sé osso, sostenitori e armadura della carne, il mondo ha i sassi, sostenitori della terra. Se l'uomo ha in sé il laco del sangue, dove cresce e discresce il pomone nell'ualitare, il corpo della terra ha il suo oceano mare, il quale ancora lui cresce e discresce ogni sei ore per l'ualitare del mondo. Se dal detto lago di sangue, di riva, vene che si vanno ramificando per lo corpo umano, similmente il mare e oceano empie il corpo della terra di infinita vene d'acqua. Manca al corpo della terra, è vero, dice Leonardo, i nervi, ma in tutte le altre cose sono molto simili. È un passo fondamentale. Pertanto, poiché ambedue i corpi sarebbero provvisti di un sistema circolatorio, il concetto di analogia o similitudine tra uomo e terra, espresso in forma nominativa, aggettivale e avverbiale, è una parte rilevante della visione del mondo leonardiana intorno al 1490. Un concetto elaborato sulla stessa pagina in altri due brani, come hanno notato Webster Smith e Frank Fehrenbach. Nel secondo passo, intitolato delle vene dell'acqua sopra le cime delle montagne, Leonardo sostiene che la stessa legge per cui il sangue resta nella testa dell'uomo senza precipitare, vale anche per i corsi d'acqua sulla sommità dei monti, e ciò sarebbe impossibile se il corpo della terra non avessi similitudine con l'uomo. Ora si badi che questa analogia è priva di qualsiasi valore euristico. Per lo stesso Leonardo si tratta solo di una constatazione. Infatti, inappagato dal confronto statico uomo-terra e sangue-acqua, egli ritorna sul tema con il terzo brano intitolato del caldo che è nel mondo. Dove è vita, lì è calore, e dove è calore vitale, qui vi è movimento di umori, scrive Leonardo. Ma il suo obiettivo non è quello di spiegare la causa o la forma del mondo, bensì, molto più semplicemente, un processo idrologico e dinamico. Le acque attirate dal calore del fuoco, inteso come elemento, e dal calore del sole, risalirebbero in un ciclo continuo dalla base verso la cima delle montagne e creerebbero i fiumi, trovando qualche leggera fessura lungo il cammino, come si vede nello schizzo sul lato destro del 55A, che è naturalmente questo schizzo, dove si vedono appunto i fiumi che formano le vene della terra, in analogia poi con quelli del corpo umano nei suoi studi sul cranio di qualche due o tre anni precedenti. Ha ragione, Ferenbacca, analizzando i tre passi nella loro sequenza corretta, ha insistito sul passaggio da un'analogia zoomorfica, morfologica, vale a dire l'equivalenza uomo-terra e sangue-acqua, a un'analogia meccanicistica e dinamica. In altri termini, i testi che abbiamo citato non possederebbero una connotazione cosmologica o antropologica, bensì sarebbero al servizio di una spiegazione tendenzialmente meccanica della circolazione dell'acqua. Resta tuttavia il fatto che Leonardo affronti questi problemi complessi con il sostegno del metodo analogico, di qualsiasi genere esso fosse. Le analogie più efficaci sono forse quelle di carattere euristico. A differenza del primo tipo che abbiamo definito letterale o sostanziale, quello euristico è fortemente e persino necessariamente mediato dall'uso di modelli esplicativi che si potrebbero ben definire epistemici. Sono questi modelli meccanico, prospettico e via dicendo che governano il ricorso all'analogia e non viceversa, come accadeva invece nell'analogia letterale. Oltre agli esempi che si potrebbero trarre dai numerosi fogli dedicati all'anatomia comparata, sono particolarmente ricche le pagine dove Leonardo cerca di spiegare fenomeni invisibili facendo ricorso a similitudini molto concrete. Sulla scia della tradizione aristotelica, dal commento di Averroè alla fisica sino alla letteratura prospettica di matrice grossa testiana. Ciò è evidente nel caso delle onde sonore luminose che vengono paragonate a quelle formate da due piccole pietre gettate in uno stagno nello stesso istante che sono poi questi due piccoli cerchi al centro del suo diagramma. Due brani del manoscritto A fotografano la situazione intorno al 1490-92 analizzata molto bene da Dorothy Knisberger nel suo Renaissance Man and Creative Thinking History of Concepts of Harmony. La prima analogia serve a Leonardo per dimostrare, seguendo un'indicazione tratta dalla perspectiva comunist di Peckham, come ogni corpo ombroso riempia l'aria circostante di un numero infinito di immagini. Si tratta del testo qui in basso a sinistra. La seconda conferma invece come Leonardo trasferisse le osservazioni ottenute nel campo dell'idraulica a quello dell'acustica perché in tutti i casi del moto l'acqua ha gran conformità con l'aria e come sapete Leonardo gioca sempre fra questi due elementi molto simili diciamo nella concezione. Una similitudine per usare le sue parole che si carica di forza poetica quando nel manoscritto F dell'Institut de France iniziato a Milano nel 1508 ed è il secondo brano qui sulla sinistra confronta il rapporto tra l'impeto e l'acqua con le onde fatte il maggio nelle biade dal corso dei venti che si vede correre l'onde per le campagne e le biade non si mutano di l'orsito. Per interpretare questo passo bisogna ricordare che per Leonardo le species immateriali non sono in loco né in tempo pertanto esse agitano la materia come il vento le biade benché non si trasferiscano propriamente nello spazio-tempo potendosi interessare e intersecare e sovrapporre senza impedimento reciproco come fa naturalmente le onde d'urto del disegno. Si piegano dunque le biade perché mosse dal vento ma non abbandonano la loro posizione ancorata al terreno in sintonia con quanto avverrebbe con le onde d'urto. L'acqua è stata sempre abbiamo visto anche in parte il disegno prima nella relazione precedente l'acqua è stata sempre al centro degli interessi di Leonardo e il saggio di Gombrich menzionato in apertura fu tra i primi ad affrontare seriamente l'argomento. Vi risparmio la citazione del lungo brano che accompagna il disegno sulla sinistra eseguito intorno al 1510 poiché pur nella sua tortuosità è già stata analizzata da Gombrich con grande finezza ed è importante invece ricordare come lo studioso in si stesse sulla lettura dello schizzo come diagramma molto elaborato e non come istantanea ne parlava prima anche Martin. Per noi oggi questo può sembrare evidente forse addirittura banale ma non lo era nel 1969. La seconda osservazione preziosa di Gombrich è la constatazione del ruolo fondamentale giocato dalla lingua un ruolo che diventò sempre più dominante con il passare degli anni. Anche il disegno sulla destra merita di essere chiamato in causa ancora una volta poiché è accompagnato da uno dei testi più celibri di Leonardo sul mondo dei fluidi. Martin non l'ha citato adesso lo cito io e gli scrive nota il moto della livella dell'acqua il quale fa a uso dei capelli che hanno due moti dei quali uno attende al peso del vello l'altro allineamento delle volte cioè dei vortici così l'acqua alle sue volte revertiginose delle quali una parte attende all'impeto del corso principale l'altra attende al moto incidente e reflesso. Con questa analogia Leonardo vuole semplicemente descrivere il movimento spiraliforme del vortice e la trazione interiore esercitata dall'acqua del fiume. ma a noi resta per noi resta memorabile soprattutto il confronto con i capelli della leda eseguita qualche anno prima le cui trecce da parrucca teatrale anticipano le forme dei gorghi creati dall'ostacolo che si frappone all'impeto della corrente come aveva già notato Gombrich. I disegni anatomici offrono numerosi spunti adatti al tema e tra i molti esempi possibili vi presento solo questi molto tardi perché costituiscono un buon ponte verso l'analogia di tipo metaforico e perché il rapporto con uno schizzo geometrico dell'albero di una nave è particolarmente suggestivo permettendoci di visualizzare la similitudine descritta nel testo in cima il foglio in alto a destra quindi uno dei fogli di Fuinzon anatomici dove in basso a destra vedete appunto l'albero della nave in modo diagrammatico che in qualche modo illustra questo testo di due anni più tardo ma che ci rivela come Leonardo ritorni spesso sulle stesse similitudini farai farai prima la spina del collo con le sue corde cioè con i tendini a uso di albero di nave con le sue costiere cioè le sartie di poi fa la testa con le sue corde che le danno il moto sopra il suo polo quindi sopra il furco del teschio e quindi questa è una chiara similitudine quando i fabbricieri del Duomo di Milano consultarono Leonardo intorno al 1487-1888 insieme ad altri architetti per risolvere i problemi del tiburio della cattedrale egli progettò un modello ligno insieme a un carpentiere del luogo preparandosi a quel compito Leonardo tracciò alcuni schizzi in cui i costoloni del tiburio ricordano la spina dorsale di un essere umano e quindi diciamo che il paragone la similitudine fra la spina dorsale di 25 anni dopo e i costoloni della cupola è stata notata naturalmente più volte dagli studiosi più di 25 anni separano i due fogli sullo schermo e ciò dimostra come l'analogia godesse di un favore particolare nel pensiero di Leonardo quando si poneva il problema di concettualizzare l'uomo il suo ambiente intorno al 1513 paragonava i tendini del collo del tronco al sartiame dell'albero di una nave intorno al 1487 aveva già paragonato il tiburio del duomo a un corpo malato che aveva bisogno delle cure di un architetto medico e quindi una chiara diciamo analogia di tipo metaforico giunti a questo punto dopo aver analizzato i tre diversi usi dell'analogia in Leonardo questo è un punto cruciale letterale euristico e metaforico bisogna puntualizzare che nei suoi iscritti questo termine non si trova non esiste ci imbattiamo invece nei concetti di similitudine e comparazione in uno dei suoi studi anatomici per esempio egli propone una comparazione tra la flusso l'efflusso della bile nello stomaco da una parte e le correnti contrarie nei fiumi dall'altra parte e si tratta sempre in un foglio anatomico di questo testo che è ancora in stadio di annotazione e non di testo finito per la pubblicazione quindi anche l'idea di insistere da dove vengono queste annotazioni spesso aneddotiche che vanno bene forse in un'antologia ma che perdono poi il contesto diciamo in qualche modo fisico del manoscritto e del disegno ne mancano similitudini letterarie retoriche per spiegare ad esempio il fenomeno della pazienza su un foglio del codice atlantico scrive Leonardo comparazione della pazienza la pazienza fa contro le ingiurie non altrimenti che si facciano i panni contro del freddo impero che se ti multiplicherai i panni secondo la moltiplicazione del freddo esso freddo nocere non potrà e qui è interessante constatare come Leonardo ragioni in termini proporzionali anche per questo problema e pertanto prettamente analogici in senso aristotelico similmente prosegue Leonardo alle grandi ingiurie cresci la pazienza e esse ingiurie offendere non ti potranno similitudine dunque comparazione come figura retorica mai analogia ma è il metodo a contare e forse non è superfluo un breve schizzo questa parte è puramente storiografica ma mi sembra importante per riuscire ad avvicinare il problema dell'analogia in Leonardo in generale il metodo analogico non appartiene a un'epoca precisa come sembra sostenere invece Foucault in uno dei suoi capolavori le parole e le cose dove l'autore afferma che sino alla fine del sedicesimo secolo la somiglianza ha giocato un ruolo primario nella costruzione del sapere della cultura occidentale Foucault distingue quattro forme di similitudine la convenienza l'emulazio il gioco delle simpatie e infine l'analogia egli è ben consapevole che quest'ultima sia un vecchio concetto già familiare alla scienza greca e al pensiero medievale ma pensa che il suo uso sia probabilmente cambiato in età moderna quindi questo avverbio è importante di certo il metodo analogico non è mai stato immobile nel corso della sua storia e ne sono esistite diverse declinazioni tuttavia non si può ignorare una sua continuità attraverso i secoli di origine platonico-aristotelica si sviluppò fortemente in epoca medievale per riemergere poi nell'età moderna per fare solo qualche esempio brevissimo nel campo dell'ottica caro Leonardo il francescano Ruggero Bacone nel suo Opus Maius armonizzava i fenomeni naturali con i dogmi teologici attraverso un'analogia la visione diretta della luce avrebbe corrisposto alla conoscenza di Dio la visione rifratta sarebbe equivalza alla percezione angelica mentre quella riflessa sarebbe appartenuta alla sfera dell'uomo nel medioevo era poi corrente l'immagine di Dio Padre come architetto dell'universo e per analogia creatore del mondo una metafora ripresa anche nei secoli seguenti sino a sfociare nel 400 nel 500 in un'analogia tout court tra la creatività artistica dell'uomo e la stessa creazione divina l'uso dell'analogia però continuò anche in epoca moderna ed è questo un punto fondamentale nei Paralipomenad Advitelionem del 1604 che Plero confessò di amare molto le analogie mie maestre fedelissime consapevoli di tutti gli arcani della natura mentre Newton non disdegnava di pensare in termini di analogia musicale e meccanica tutt'oggi l'analogia si rivela come uno strumento metodologico utile quando gli scienziati si trovino ad affrontare un problema per la prima volta e il recente libro di Douglas Hofstetter e Emmanuel Sander Surfaces and Essences Analogy as the Fuel and Fire of Thinking pubblicato a New York nel 2013 un libro all'incrocio tra storia della scienza intelligenza artificiale e psicologia ne rivendica il valore cognitivo fondamentale per la nostra esistenza un libro importante da cui ho eliminato alcuni strani per motivi di tempo preso atto di questa tradizione millenaria quale senso può avere la condanna formulata spesso in passato del metodo analogico utilizzato dal Vinciano il punto pertanto non è tanto quello di criticare oppure riscattare i risultati da lui ottenuti attraverso analogie o similitudini confrontandoli poi con le precisazioni emerse nel corso della storia della scienza bensì capire le funzioni di queste analogie all'interno del suo pensiero in qualche modo referenziale per fare chiarezza e qui mi scuso per alcuni riassunti ma forse ho cercato di chiudere in poche frasi libri anche di parecchi centinaia di pagine per fare chiarezza può essere utile ripercorrere le tappe principali di questo dibattito filosofico e storiografico limitandosi per il momento al novecento se Leonardo Olschki ancora rinvigorito dalle certezze del positivismo svalutò i buoni risultati ottenuti qualche volta dall'artista perché incapace di una sintesi veramente scientifica Cesare Luporini e Vassili Zubov ne presero invece le difese constatando il primo la duplice utilità dell'analogia sia come strumento di conoscenza vale a dire come ipotesi di ricerca e stimola la scoperta sia come spunto sistematico da abbandonare nello stesso istante in cui si rivelasse insostenibile e polemizzando il secondo cioè Zubov con l'immagine in parte grottesca offerta da Olschki rimasto imprigionato nella rete del suo stesso approccio positivistico Olschki dedica un intero ed esteso capitolo a Leonardo nel suo classico del 1917 il primo volume della trilogia intitolata Die Geschichte der Neussprachlichen Wissenschaftlichen Literatur la cui pubblicazione venne ritardata dagli eventi bellici sino al 1919 e sulla destra vedete poi il titolo del primo volume il tono è decisamente negativo e il discorso di Olschki prende le mosse da una critica dell'ingenua equazione tra macro e microcosmo da cui eravamo partiti e dell'amore leonardiano per analogie solo apparenti secondo Olschki si sarebbe Leonardo si sarebbe accontentato della superficiale somiglianza tra la circolazione delle vie d'acqua e quelle dei vasi sanguigni di chiarire il come senza farsi tante domande sul perché di quella analogia come scienziato sarebbe stato figlio di un'epoca di transizione e da tutto ciò che è stato detto ne conseguirebbe das es Leonardo in jedem methodischen bewustsein fehlte un giudizio molto severo che impronta tutta la sua interpretazione la critica alla mancanza di sistematicità di Leonardo è sacrosanta ma si fa ingiusta quando rinfaccia al pensiero leonardiano di essere pura poesia inoltre la fuga della sua argomentazione lo rende cieco di fronte ad alcuni aspetti molto nuovi della ricerca di Leonardo per esempio Olschke sembra negare al disegno ogni valore euristico lo maltratta in qualche modo trasferendo tutto il potere dell'argomentazione scientifica al potere della parola non accorciendosi così del fatto che la penna di Leonardo era uno strumento di indagine e di analisi scientifica paragonabile al potere delle parole incapaci di cogliere questa novità il giudizio finale di Olschke fu devastante e qui cito l'opera di Leonardo fu da qualsiasi punto di vista la si analizzi un'impresa fallita un'impresa fallita una prestazione senza risultati apprezzabili sia scientificamente sia letterariamente cioè peggio di così pertanto non c'è da stupirsi se qualche decennio più tardi filosofi e storici della scienza si decidessero da fare per correggere questa opinione a quanto dir meno ingenerosa tra le molte voci possibili un saggio di Cesare Luporini offre forse la visione più articolata nel gennaio del 1953 il filosofo partecipò al convegno di studi vinciani a Firenze e nello stesso anno diede alle stampe quella relazione come prima parte del suo celebre volume intitolato La mente di Leonardo il titolo del saggio del primo saggio per una interpretazione non formalistica del pensiero di Leonardo è di per sé rivelatore perché denunciava sin dal titolo una presa di posizione nei confronti del lavoro di Olschi considerato da Luporini come il più insigne rappresentante dell'analisi formalistica dell'artista in realtà nelle pagine di Luporini non si parla molto di analogia infatti il filosofo si limita a ricordare la suggestiva immagine leonardiana della terra intesa come un enorme cetaceo e a sottolineare come il problema fondamentale del vinciano fosse quello di trovare i nessi reali dei fenomeni materiali questo nessi reali dei fenomeni materiali è una frase molto bella di non perdere mai il contatto con la realtà sperimentale ma è una lunga nota a commento di questo breve passo sull'orca marina che rivela in tutta la sua ampiezza la posizione di Luporini sull'argomento quasi un piccolo saggio di cui vanno citati alcuni brani per cogliere bene la rivalutazione del pensiero analogico di Leonardo nei decenni a seguito della seconda guerra mondiale e qui cito è un breve passaggio quindi però va citato secondo me anche analogie di questo tipo vale a dire dell'immagine della terra intesa come orca marina o capidoglio assumevano obiettivamente obiettivamente in Leonardo il valore di ipotesi di ricerca e più in generale vi sono talvolta in esse anche spunti sistematici spunti sistematici che sono poi i due aspetti principali della funzione che ha avuto l'analogia nell'indagine scientifica moderna anche se naturalmente il suo uso non sia sottoposto in Leonardo alla disciplina metodologica che avrà negli indagatori del XVII secolo e posteriori il che non poteva accadere ad un tratto quindi insistere sulla contestualizzazione del pensiero di Leonardo particolarmente capziosa in sostanza poco più che impressionistica è l'analisi dell'Oshki nei riguardi dell'uso leonardesco dell'analogia ove egli cerca di svalutare anche l'applicazione scientificamente più geniale fattane da Leonardo con la sua teoria ondulatoria della propagazione dei moti dell'acqua aria terra eccetera già messa in luce da Solmi che naturalmente è uno studioso fondamentale per Leonardo con l'ingannevole argomento che Leonardo l'applicherebbe anche al pensiero del resto Leonardo adopera l'analogia non solo come strumento di scoperta per stabilire nuovi nessi ma anche ove essa nel processo critico si riveli in tutto o in parte insostenibili per scartarne l'apparenza o limitarne la portata pertanto Leonardo e questa è la conclusione di Luporini utilizza l'analogia in modo critico ne fa uso per avvicinarsi a fenomeni che non conosce e che sono spiegabili o che sono spiegabili solo con una grande difficoltà ma è pronto a rinunciarvi se si rivela inutile o persino errata anche Vassili Zubov prese le distanze da Olschi nel suo classico libro su Leonardo egli riconobbe nell'attività scientifica di Leonardo il frequente ricorso all'analogia per la costruzione di modelli critici adatti ad analizzare il mondo naturale e rivendicò il valore dei risultati raggiunti dall'artista non è vero che Leonardo si concedesse ad analogie immaginarie senza verificarle sosteneva Zubov al contrario per lui le analogie erano solo il primo passo di un percorso intellettuale il momento iniziale di un processo mentale che poteva anche essere poi scientificamente in qualche modo negato e vengo alla conclusione a dispetto della sua posizione ipercritica Olschke riconosceva a Leonardo un'insaziabile curiosità e volontà di porre domande ciò è tutt'altro che marginale soprattutto se consideriamo come l'artista avesse coltivato la pianta del dubbio verso la fine della sua esistenza la capacità di porre domande pertinenti e dubitare delle proprie promesse o ipotesi e ciò che forma l'habitus della scienza moderna ma sia chiaro che non si intende offrire un ritratto forzato di Leonardo come grande precursore un'immagine tutto sommato riproposta da Zuboff e persino in alcune pagine di Luporini quando per esempio attribuiva a Leonardo la scoperta del principio di inerzia in anticipo su Galileo e Cartesio al contrario Leonardo è stato spesso vittima di un devastante malinteso troppo di frequente si è cercato di collocarlo nel novero degli innovatori o per esaltarlo come sopravvalutato anticipatore quindi le critiche di Olschke oppure per registrarne i presunti fallimenti cioè Solmi oppure per registrarne i presunti fallimenti cioè Olschke sono confronti improponibili si deve invece insistere sul fatto che Leonardo si fosse formato nei contesti delle botteghe fiorentine del Quattrocento plasmati dall'evolversi di un sapere empirico di grande efficacia e peraltro non aliene dal contatto con la cultura per così dire alta per esempio se Cassirer ha posto l'accento sul debito di Leonardo nei confronti di Niccolò Cusano anche per quello che riguarda l'analogia tra macro e microcosmo debito peraltro negato con decisione da Marinoni non meno importante sarebbe identificare i canali di quella diffusione come proposto da altri il tramite più probabile tra il deducta ignoranzia del 1440 e il mondo delle botteghe fiorentine potrebbe essere stato il matematico Paolo dal Pozzo Toscanelli senza però trascurare la figura di Marsiglio Ficino le cui pagine per esempio quelle della comparatio Orfica Solis Addeum sono letteralmente colme di analogie letteralmente piene di analogie tuttavia se vogliamo far chiarezza sul rapporto di Leonardo con questo metodo non dovremmo guardare troppo al mondo degli umanisti per quanto ciò sia a volte utile e necessario bensì alla vivacità del sapere orale delle botteghe e questo è stato sostenuto direi in modo molto convincente da Pamela Lee ma ancora prima direi da Dorothy Königsberger la cui citazione è la seguente At first the influence of Cusano was not directly explored by philosophers but rather it was appreciated in philosophical discussions within the artistic community quindi gli artisti erano capaci di discussioni filosofiche the direct and wider historical impact of Cusa on philosophy comes much later when it was taken up by Giordano Bruno e nel vivace ambiente delle botteghe fiorentine che si è formata la lingua di Leonardo e questo è il terzo punto che mi ripropongo di analizzare in seguito e la sua particolare capacità di indagare il mondo naturale attraverso l'analogia la similitudine o la comparazione il fatto che i posteri ignorando i contesti storici si siano spinti invece a metterlo a confronto con i grandi protagonisti della storia della scienza moderna che Plero Galileo Newton ha di per sé del miracoloso ma un tale omaggio involontariamente ne ha intorbidito l'immagine la statura e persino la portata storica grazie grazie